Ho quasi voglia di piangere, ok? Come diresti questa frase? Aiuto, aiuto, davanti a me c'è un grosso lupo? Aiuto, aiuto, davanti a me. Sei molto, molto tedesco. Che fai? Che fai? Corro a scappare. Come la bianca se sei una buziente? Che fai? Corro a scappare. Bravo! Ginevra, invece, è molto rallentata. Che fai? Che fai? Correre o scappare. Brava! Riccardo, in questo momento, è un mostro. Come diresti questa frase? Che fai? Che fai? Correre o scappare! Ginevra, stai sfilando. Che fai? Che fai? Correre o scappare. Riccardo, invece, è un poeta. Che fai? Che fai? Correre o scappare. Bravo! Questa frase è detta da un direttore d'orchestra, mentre lì che dirige la sua sinfonia, preso dalle note musicale. Che fai? Che fai? Correre o scappare. Bravo! Amin, tu sei un prestigiatore, un mago, un incantatore. Vai, cari! Correre o scappare!